Buongiorno, è l'October 16, 2021, è il Saturday, è il Naples 68, il Fahrenheit around 20 Celsius, questo significa che sì, quella giornata veramente, 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 veramente mite, come in questi giorni e in questo periodo, anche se, insomma, è sempre un po' più freddo, fresco rispetto alla media, in generale, vento, per quanto riguarda l'atmosfera, il vento e tutto il resto. Oggi quasi sicuramente, senza dubbio, dirà la frase sui Weekend Projects, per cui la ringrazio in anticipo e ricambio la fortuna per i suoi progetti, e poi, pensato al fatto che riprende il campionato di Serie A, dopo una settimana, in realtà due settimane effettive di sosta, per le nazionali, le partite delle nazionali, e spero che, insomma, il mio Napoli continui la strisce vittorie consecutive all'inizio del campionato, non perde sette vittorie consecutive. Se domani vincerà l'ottava partita, guaglierà il record della storia del Napoli, anche a livello di allenatori, il record di Mister Sarri, che tre anni fa, Spalletti, il nuovo allenatore, guaglierà quel record, quindi sia un record personale per lui, perché ha mai fatto otto vittorie consecutive in campionato, ne ha meno sette, in realtà, già l'ha fatto la giornata precedente, il massimo è arrivato a sei vittorie consecutive alle prime sei partite, in ogni caso, otto vittorie consecutive, il Napoli raggiungerà il record di tre anni fa, raggiunto da Mister Sarri, ovviamente con nove vittorie alla nuova partita, entrerà ancora di più nella leggenda e nella storia, perché sarà un record assoluto, ma vedremo, speriamo per il meglio, speriamo anche che i suoi numeri ci diano qualche indicazione sul risultato di domani. Sì, oggi abbiamo questi bellissimi giusti e giusti sanzioni all'alonga la via, e spero che spero di spero di essere un po' di più, anche domani sarà un po' di più. così però ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro so but as always we'll see said this so from the mythical window with the colored curtain this beautiful colored curtain today behind me and it's green roller shooter on the top and finally from my mythical keyboard yamaha dgx 640 ipg 600 have a great day him and everyone too